Amici di TV6, nuova edizione del TG L'Aquila, oggi un'edizione particolare perché affronteremo la notizia del giorno, la sentenza di primo grado sul processo Dirti Soccer sul calcio scommesso nella Lega Pro, vedete alla mia sinistra il vicepresidente dell'Aquila Calcio Massimo Mancini che ringraziamo per aver tra l'altro accettato il nostro invito. Buongiorno Massimo, parleremo con il vicepresidente della sentenza, 13 punti di penalizzazione accordati all'Aquila Calcio e 150 mila euro di multa, facciamo il punto della situazione con il servizio e poi lo commentiamo in studio appunto con il vicepresidente Mancini. Da 27 punti a 14, dal settimo posto in classifica al terz'ultimo. È questa da ieri la nuova classifica dell'Aquila Calcio a seguito della sentenza di primo grado sul processo calcio scommesse Lega Pro. Il Tribunale federale presieduto dall'avvocato Sergio Artico ha attribuito 13 punti di penalizzazione ai Rosso Blu e 150 mila euro di ammenda. Una sanzione dimezzata rispetto ai 31 punti che due settimane fa erano stati richiesti dalla Procura federale assieme a 205 mila euro di multa. L'Aquila spera però che l'entità della penalizzazione possa essere ridotta in secondo grado. L'avvocato Flavia Tortorella presenterà entro lunedì 8 febbraio il ricorso in corte d'appello. La strategia è chiara. Dei 13 punti sanzionati in primo grado sette riguardano tre partite successive al 21 febbraio 2015, giorno in cui l'ex responsabile dell'area tecnica Rosso Blu Ercole Di Nicola, uno dei maggiori imputati come responsabile dei presunti illeciti, si dimise da dipendente del club. Si tratta di L'Aquila Tutto Cuoio del 23 marzo, L'Aquila Sant'Arcangelo del 29 marzo e Barletta Catanzaro del 1 aprile. A far ben sperare c'è il precedente in corte d'appello del processo di quest'estate su Pisa Torres e Savona Teramo. In quell'occasione l'Aquila fu assolta dal reato di responsabilità oggettiva proprio per tutte le gare incriminate successive al febbraio 2015. Se quindi dovesse passare di nuovo la linea dei giudici anche per questo secondo filone del processo, dopo il secondo grado di giudizio i Rosso Blu potrebbero vedere ridotti 13 punti di penalizzazione a 6-7. Intanto la sentenza è stata accolta con un pizzico di ottimismo dalla squadra del tecnico Carlo Perrone, già al lavoro per la delicatissima sfida di sabato pomeriggio contro l'Ancona. L'allenatore aquilano ha voluto commentare la sentenza spiegando di essere consapevole che questo sia il momento più buio della stagione e anche il punto più basso di una classifica che però da ore in avanti potrà solo migliorare. Si è inoltre detto sicuro che i suoi ragazzi riusciranno nell'impresa di salvare l'Aquila e il Lega Pro. Mancini abbiamo visto il servizio, la possibilità che vengano ridotti questi 13 punti in appello come anche confermato dall'avvocato Flavia Tortorella, ma partiamo da questa sentenza. Qual è il commento di Massimo Mancini della società L'Aquila Calcio e soprattutto questa multa parecchio esosa per un club di Lega Pro? Diciamo innanzitutto che siamo contenti di aver scelto Flavia Tortorella perché è stata veramente bravissima, una riduzione da 31 a 13 punti è un miracolo che non si è mai verificato e questo vuol dire che la nostra linea difensiva è stata accolta e ci fa ben sperare sui gradi di giudizio. Certo la sanzione è rimasta eccessiva considerato che già abbiamo pagato 25 mila euro per la prima sentenza, adesso altri 150 vogliono affossare il calcio. Ecco tra l'altro ci sono questi 150 mila euro e poi questi 13 punti di cui fanno parte anche le partite dopo il febbraio del 2015. C'è secondo lei la possibilità di vedersi ridurre la penalizzazione proprio anche alla luce di quello che accadde quest'estate per Savona Teramo e per Pisa Torres? Noi già abbiamo avuto delle sentenze a favore insomma dopo l'uscita di Ercole e di Nicola dall'Aquila Calcio che è avvenuta nel febbraio insomma non abbiamo già vinto un grado di giudizio in cui ci hanno riconosciuto insomma le stranità, i fatti quindi sono convinto che queste altre tre partite insomma essendoci già un giudizio favorevole possano essere considerate come partite insomma che non ci portano via punteggio. Ecco tra l'altro le sorprese oggi non finiscono qui perché abbiamo raggiunto in esclusiva telefonicamente il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina per appunto chiedere un suo commento sulla sentenza e sul percorso dell'Aquila Calcio da qui alla fine. Sentite. Presidente Gravina insomma alla luce anche di quello che c'è stato ieri la sentenza di primo grado dirti Soccer, 13 punti all'Aquila Calcio, qual è il suo commento? Ma io non entro nel merito dei conseguiti della sentenza perché è evidente che ci sono dei documenti, ci sono dei riscontri da parte della Procura di Catanzaro ma poi credo anche da parte della Procura federale. La cosa che e quindi auspico comunque che ci sia negli altri due gradi di giudizio una chiarezza maggiore o addirittura altrettanto importante come quella che già è avvenuta in primo grado. Una cosa che vorrei sottolineare che da presidente della Lega e soprattutto da uomo di sport la cosa che più mi preoccupa è che siamo addirittura ad arrivo verso la fine di un campionato e facendo un po' di calcoli di date, di giorni a disposizione tra ricorsi, appelli e collegi di garanzia ho la netta sensazione che siamo a ridosso della fase finale del campionato. Questo è miratrista perché credo che tutti gli sforzi e gli impegni che il mondo del calcio la Lega Pro porta avanti per far sì che ci sia una regolarità nel campionato e ci sia comunque una valorizzazione di un'immagine diversa rispetto a quella che emerge oggi purtroppo in questa maniera viene ad essere abbastanza aggredita. Non voglio lanciare accusa nei confronti di nessuno ma certamente questa è una situazione per quanto riguarda i capri di grande disagio. Ecco presidente da uomo di sport come ha detto ma anche da abruzzese secondo lei soprattutto a livello tecnico perché poi adesso mancano 14 partite l'Aquila può salvarsi con questo bottino di penalizzazione e eventualmente dovesse rimanere tale anche dopo gli altri gradi di giudizio. Ma io credo che l'Aquila ha tutte le carte in seguito per potersi salvare, nulla è precluso, ci sono appunto 14 gare, tanti punti a disposizione, nel resto già alla vittoria di domenica scorsa fuori mi sembra che sia stato un ottimo risultato. Abbiamo sentito le parole di Gabriele Gravine, il presidente della Lega Pro, tra l'altro lo conosce di persona Massimo Mancini, un commento, parlava il presidente appunto anche di questa difficoltà di dover dare altri due gradi di giudizio entro fine campionato, rischiando così di falsare la fine del campionato. Qual è il commento? Certo, innanzitutto il commento è che abbiamo finalmente un grande presidente alla Lega Pro, è la prima cosa, è un presidente che segue tutto e che chiaramente è consapevole dei danni che si possono ingenerare da una penalizzazione che viene magari data all'ultima giornata di campionato o subito dopo. Quindi è un campionato falsato, noi se guardiamo i nostri 13 punti di penalizzazione dalla possibilità dei play-off siamo passati ai play-out, quindi è una penalizzazione che sicuramente non ci dà certezze anche a livello psicologico, insomma un pochino lo subiamo, l'abbiamo subito tante poi anche perché è il calo di pubblico e voglio fare un elogio ai, se mi consenti, ai nostri tifosi che oggi ho letto degli striscioni in cui dicono appunto che dicono appunto tutti uniti, questa è l'Aquila Calcio, dobbiamo essere tutti uniti e vinciamo tutti, state tranquilli. Tutti uniti sul campo perché tra l'altro sabato c'è questa sfida delicatissima contro l'Ancona con questi nuovi innesti che già hanno dato prova di qualità in difesa Pesoli a centrocampo Bulevardi. Ecco un commento finale del vicepresidente Mancini su questo mercato invernale che si è chiuso ieri poi lanceremo il servizio proprio per fare il punto della situazione sulle trattative che si sono concluse. L'Ancona è una squadra molto molto ostica, è una squadra difficile e questi inserimenti che abbiamo fatto sono fondamentali ma non dimentichiamoci che abbiamo anche adesso due portieri insomma di grandissimo livello e insieme a Bulevardi e Pesoli che secondo me sia in difesa ne abbiamo già avuto prova nella partita contro il Ponte d'Era che al centrocampo con un centrocampista così aggressivo, un ragazzo che sicuramente farà tanta strada e che vuole fare, credo che la squadra possa cambiare veramente in meglio, ancora di più in meglio anche se fino adesso si è comportata benissimo insomma bene o male senza penalizzazione siamo una classifica medio alta insomma. Nel prossimo servizio appunto il mercato che si è concluso ieri e l'intervista a Salvatore Sandomenico, il bomber della squadra Otto Reti finora in campionato proprio in vista della sfida contro l'Ancona, non prima però di ringraziare ancora per essere stato con noi il vicepresidente dell'Aquila Massimo Mancini, speriamo di ritrovarlo presto nei nostri studi. È sorridente speriamo, no? Per festeggiare. Grazie ancora Massimo Mancini, il servizio sul mercato e Salvatore Sandomenico. Nell'ultimo giorno di calciomercato l'Aquila ha perfezionato una sola operazione in entrata. Nel pomeriggio di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore centrale Luca Bruno, giovane promessa classe 96 prelevato in prestito dal Crotone. Scuola Brescia e Sinistro Naturale è il terzo rinforzo invernale per la difesa dopo gli arrivi del portiere Francesco Scotti e del centrale ex pescare Emanuele Pesoli. Nelle ultime ore poi si era parlato del possibile arrivo del terzino della Salernitana Gianluca Pollace, a patto però che in uscita fosse stato piazzato il siciliano Dennis Di Mercurio. Alla fine però l'Aquila è rimasta così com'era. Sono rimasti tutti, compreso il portiere Giovanni Zandrini, che era dato in uscita sino alle ultime ore di mercato. Da Milano il direttore sportivo del Rosso Blu Alessandro Battisti ha spiegato non abbiamo effettuato altre operazioni perché abbiamo piena fiducia nella rosa che abbiamo composto in estate e ritoccato a gennaio. Con questi giocatori, prima di tutto uomini, lotteremo tutti insieme per accentrare la salvezza, carichi più che mai dopo la penalizzazione. Proprio sulla nuova classifica del Rosso Blu, alla luce del primo grado del processo sportivo, parla così il capocannoniere della squadra, Salvatore Sandomenico, alla luce della prossima sfida contro l'Ancona. Ora dopo la classifica che purtroppo ci ha penalizzato, ora dobbiamo guardare questi 14 punti che abbiamo e fanno tesoro e fanno ancora tanti altri perché la salvezza è la nostra portata. Chiudiamo l'ampia pagina dedicata allo sport, era doveroso anche per la sentenza arrivata ieri sull'Aquila Calcio e adesso invece parliamo di cronaca perché all'Aquila due donne fingendosi dipendenti dell'Inps si sono introdotte in casa di una coppia di anziani, reagirandoli e rubando 1000 euro. Ci spiega tutto, Daniela Rosone. La Polizia di Stato invita a prestare la massima attenzione alle truffe dei falsi impiegati che si presentano nelle case, soprattutto di anziani. La volante dell'Aquila infatti è intervenuta nei giorni scorsi nel centro aquilano dove una coppia di anziani è stata derubata nella propria abitazione da due donne che si sono presentate come dipendenti dell'Inps. Le false funzionarie sono entrate con la scusa di dover dare consigli sulla nuova normativa pensionistica. Poi l'uomo, su invito delle due ladre, si è allontanato per andare a chiamare sua moglie che si trovava in quel momento da un'altra condomina. Ed è proprio in quel breve lasso di tempo che le due hanno sottratto circa 1000 euro che la coppia di anziani teneva nel comodino della camera da letto. Al rientro della coppia, dopo un veloce colloquio, le due donne si sono allontanate. A quel punto i padroni di casa, insospettitisi, si sono accorti della mancanza del denaro richiedendo l'intervento della volante dell'Aquestura dell'Aquila. L'Aquestura rivolge appunto un appello a figli, a nipoti, a vicini di casa di persone anziane affinché ricordino sempre loro di prestare la massima attenzione a chi chiede di entrare nelle loro abitazioni affermando di dover controllare la posizione pensionistica contributiva, il contatore del gas, della luce, per poi rubare o farsi consegnare denaro ed oggetti di valore. Talvolta i malviventi si presentano come appartenenti alle forze dell'ordine. In questo caso si raccomanda di controllare dallo spioncino e aprire la porta col catenaccio, chiedendo di esibire un tesserino di riconoscimento anche se dovessero indossare l'uniforme. Occorre ricordare che di solito il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso che indica il motivo, il giorno e l'ora della visita, del tecnico e nessun manda personale a casa per verificare l'eventuale presenza di banconote false, scusa solitamente utilizzata per vedere dove una persona conserva il denaro in casa. Le vittime prevalentemente sono persone di età compresa tra i 60 e i 90 anni, il cui numero è sempre molto elevato ogni anno. In ogni caso, se si hanno dubbi, anche i minimi, che la persona non sia quella che dice di essere, la polizia ricorda che è assolutamente necessario telefonare al 113 o al 112. Bene, per questa edizione mi fermo qui. Non prima però di avervi ricordato l'appuntamento di questa sera a 21.45 con una nuova puntata di Prol'Aquila, condotta da Giulio Nardi, ospite in studio e la centrocampista dell'Aquila Calcio, Vittorio Triarico. Si parlerà ancora della sentenza sul calcio scommesse e della partita in arrivo sabato pomeriggio contro l'Ancona. Bene, è davvero tutto. Grazie per averci seguito. Appuntamento alla nuova edizione della TG 6 L'Aquila, 14.45, 19.45, canale 14 del Digitale Terrestre. Grazie, arrivederci.